Ah, erano i più fili espinati, a me di oro mi hanno aperto una finestra Questa è una in caffetteria Fatto? No, caffetteria è qua sulla mia destra No, ho visto che aveva ammazzato uno, non so cosa era quello in caffetteria, quindi potevo guardare Comunque non ho guardato verso i bani Quale era un hatchet? Eh? Eh? Questa è una in caffetteria Questa è la sinistra? Non so Eccolo Grande, dai! Gli aveva aperto pure il vetrino così quello voleva sparargli Che sei? Sto dietro il vetrino E pure... è un amico suo, cioè Vai via e spara col, venga Venga, darti la mano, venga, darti la mano Voi c'è andato a terra, eh, c'è solo bandit Pure bandit è andato a terra Aspetta, aspetta, c'è sempre altra gente Uh Poi... mi chieda fuori davanti D'ora davanti D'ora si è morti tutte le scale Quella che poi dice attiva che c'è adotta la del... Secure the container Hey man Mmm... Where are you going? Are you the rental mission to the cruise? Eh... GG Invece di andare a... vabbè Eh, eh, eh sì, vabbè Come... Per forza direttamente il mare Noi andiamo a prendere la bomba No no, sicuramente non ha il mouse Cos'era quello schifo, mamma mia Cioè poteva ucciderlo mille volte Puttana, è buono Cioè ha disegnato un cerchio invece di spararli Cioè è veramente incredibile Ma vediamo quanto rincula st'arma Oh! Perfetto Ma dove stavi? Ma Dark! Ma tu sei stato sparato mentre stavo ammett... Io a quanto scuola Dark Senza parole comunque veramente Che roba uscena Dai Dark vado a suicidarmi per te Perché te la suicidà? Dov' Che se no... Che se no... Al piano, dietro di te la finestra in alto Questa? No no no, dietro dietro dove stai in prima Infatti, stanno entrate al lucernario Se vieni qua ammazzi un altro che sta scendendo al lucernario Se riesci a tornare in tempo Qua dove? Ok Un lucernario Stai scendendo giù proprio Stai sceso giù Stai sulle scale Bello Ehi Dark Tutto un calcolato Tutto perché tu mi aiuti a andare a giro Sì, immaginavo Vedi? Oh! Ma... E' la... E' la... E' la... E' la... Tutti lì sono Tutti lì... Tutti lì... Lasciatemela Lasciatemela Tutti lì sono Sìììììì! Un altro!!! In altro!!! Buona granata in faccia, mi è arrivata. Ok, stanno due di là. Entrate, entrate. Tanto Sledge si è preso tanti di quei colpi che veramente se prende una tua cosa esplode malissimo. D'Arc, cosa fai lì, D'Arc? Dove è Mag? No. No. Assiste. No. Assiste. No. Assiste. Vedi, vedi. Smok. Mi uccidi tutti, Smok. Sta sulla destra, Smok, con la mitraglietta. Alla destra, a due c'è Smok. Dentro. Alla destra. E ce n'è uno. C'ho caduto! Ma ce n'è un botto lì? Ma non avevo l'idea che ci fosse una botola lì. Pensavo fossi morto. Che cazzo. Sapete l'infarto. Eh, fammi un buco gigante a fianco. Grazie. Oh, grazie, grazie. Grazie. Op4 ha trovato il biologico. Apoor ha trovato il contenitore. Apoor ha trovato il contenitore. Apoor ha trovato il contenitore. cosa no mi sono rotto il cazzo guarda porco dio però se è un gioco di merda se io ho sparato a zosco da questo danno cosa mi sto dando in giro capisce adesso dark questo muro che si serve si ma dove mi ha sparato? bello sono spargato? ma dove cazzo sta? aspetta stai a finire i golpi oh vai davvero sta sulla destra no 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 questa Figlio di puttana, vedi ascia? C'è una l'altra parte di questo muro, Dark. Io posso guardare solo la finestra dietro. Oh, oggi sto giocando benissimo, eh. Oh, comunque, da 0 a 3 a 5 a 3, eh. E questo, non so, faceva caldo se stesso spavimento. GG Dark, GG.